Rubarono oltre 500.000 euro a Maria, la decisione del giudice. La vicenda risale quando ancora era al pari Saint Germain, ora saranno processati i colpevoli. Associazione a delinquere e furto, queste le accuse mosse ai danni dei ladri che rubarono a casa di Angel di Maria. I due uomini e le due donne entrarono nella casa dell'Argentino durante una partita contro il Nantes nel marzo del 2021 e rubarono gioielli. Oggetti di valore e denaro per un valore di 500.000 euro processo ai ladri di Di Maria, coinvolto anche Draxler l'attuale giocatore della Juventus proprio nel bel mezzo della partita era uscito intorno all'ora di gioco dopo che lo staff della squadra lo aveva messo al corrente dell'accaduto. Il processo si svolgerà al Tribunale Penale di Nanterra e inizierà tra oggi 14 febbraio e domani. Gli stessi imputati dovranno rispondere dell'accusa di tentato furto ai danni dell'allora compagno di Di Maria Draxler, virgola.